Il nuovo comitato direttivo del Centro di Servizio per il Volontariato della Sicilia Occidentale ha riconfermato Giuditta Petrillo dell'Auser Regionale Sicilia, presidente del CESVOP. Il comitato direttivo inoltre ha eletto vicepresidente Ferdinando Siringo, presidente regionale del Movi Sicilia, e ha riconfermato come direttore del CESVOP Alberto Giampino. Gli altri componenti eletti del comitato direttivo sono Enzo Bisconti, Concetta Calabrese, Valentina Campanella, Viaggio Cipolla, Loredana Cuttitta e Vincenzo Marino. Giuditta Petrillo, si legge nella nota, ha un'esperienza di oltre 50 anni nel volontariato in cui, oltre alla presidenza del CESVOP lo scorso triennio, ha ricoperto diversi incarichi a livello locale, regionale e nazionale. Continuiamo il cammino già intrapreso, ha detto la Petrillo, per rendere il nostro centro di servizio per il volontariato ancora più all'altezza delle sfide inaugurate dalla recente riforma del terzo settore, nell'attesa che si completi, come previsto, la sua attuazione.